ciao a tutti bentornati sul mio canale sono jessica come state oggi registro dopo un po di tempo non lo sapete mai così stavo per registrare in realtà il wrap up ovvero riassunto un attimino delle letture del mese di febbraio ma è uscito inaspettatamente finalmente devo dire il mio primo libro la mia prima lettura da 5 stelle non potevo non posso non fare un video dedicato non posso dedicare non dedicare un video al libro più bello che ho letto finora ma devo dire la verità il libro più bello letto negli ultimi 5 6 mesi anche rispetto allo scorso anno e ci tengo veramente tanto perché perché viene da una casa editrice sconosciuta nuova una casa editrice indipendente dall'altro romana la affiori editore l'ho acquistato io il libro è non mi ha inviato nessuno ci tengo a precisarlo poi la ragazza l'autrice molto giovane molto brava secondo me grosso talento qui ragazzi si scoprono talenti secondo me poi capirete perché sto dicendo questo molto giovane italiana l'ho detto sì giulia gavei gaveio sì cognome cognome mi dimentico e sto parlando veramente il libro più bello letto negli ultimi 5 mesi il rumore dell'acqua che mi segue su instagram ha già visto il mio post ne ho già parlato nelle stories ma ne ho parlato veramente poco perché su instagram c'è poco tempo per parlarne innanzitutto come ho detto prima la fiori è una casa indipendente nata relativamente da poco è una spalla della giulio per un editore è stata creata dalla giulio per un editore e quindi questa è una casa editrice giovane che porta esordienti e ragazzi secondo me molto giovani perché gli altri anche altri libri che ho visto che ho tocchiato nel loro catalogo sono tutti scritti da ragazzi veramente molto giovani ma soffermiamoci sul rumore dell'acqua questo per me è veramente una piccola 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 chicca perché ho detto che deve continuare a scrivere per me sarà una grande secondo me lei sarà un grande talento perché sa scrivere del dolore sapete io ormai sono definita l'elettrice del dolore è così mi hanno dato questo nome ma va bene così io non è che leggo libri dolorosi perché ci sguazzo perché mi piace mi piace leggere del dolore degli altri sapere persone che soffrono non è così avendo io stesso una patologia mi piace leggere di storie anche in parte vere che ti lasciano qualcosa cioè io chiudo il libro e devo dire cavolo questa storia mi ha lasciato tanto che storia è questo che ho pensato leggendo questa piccola chicca qua 256 pagine 20 euro ma sono veramente proprio meritatissime sono giuste le 20 euro per un libro del genere veniamo alla storia me sapete la storia in parte mi piace raccontarla in parte no siamo in islanda quindi è ambientato in islanda pensate ma dall'italia passiamo all'islanda e qua incontriamo john un anziano lavoratore che vive da solo in una casa piccola appunto in islanda dopo la perdita della moglie e la scomparsa la scomparsa perché poco scomparsa della figlia poco più adolescente vive da solo con il cavallo zoppo attac il cavallo zoppo che era della figlia quindi lui si occupa ovviamente prevalentemente del cavallo ha un piccolo laboratorio lui lavora in legno appunto dove si guadagna da vivere essenzialmente accade che un giorno incontra per caso incontra gabriele gabriele è un giovane invece ragazzo italiano che è scappato dall'italia per un qualcosa gabriele ha un passato turbolento a un passato misterioso è un ragazzo molto 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 particolare impegnativo e è un ragazzo che soffre molto di una di una sua cosa accaduta anni prima anni anni prima un ragazzo che si sente in colpa per quello che è accaduto ha un senso di colpa veramente terribile che lo porta a fare su di sé cose brutte tipo autolesionismo ecco tanto per per intenderci non voglio entrare troppo nei particolari perché il libro non è lunghissimo il libro va letto quindi ci sono questi due personaggi john e gabriele che si incontreranno entrambi hanno lo stesso dolore per un qualcosa accaduto tempo prima entrambi si aiuteranno a vicenda diventeranno amici accadranno cose perché rumore dell'acqua perché gabriele dovuto a un trauma appunto da piccolo non ama l'acqua odia l'acqua paura dell'acqua e basta io mi sento solo di dirvi questo leggetelo punto perché perché leggetelo allo stile impeccabile e questo mi ha dato conferma la autrice perché poi ci siamo sentiti ovviamente anche su instagram per confrontarci allo stile impeccabile di kentaruf se amate la scrittura di kentaruf questo libro fa assolutamente per voi perché è uno stile melanconico molto molto riflessivo a parte che la scrittura è meravigliosa è molto fluido ma voi volete assolutamente vedere scoprire come va a finire il libro perché siete curiosi fin dalle prime pagine io ho amato questo libro non ve lo dico per retorica ma perché la verità questo libro è meritato le cinque stelle piene perché mi ha dato fin dalle prime pagine alle prime righe un'emozione fortissima in alcuni punti mi sono commossa non è mai stato banale mai stato volgare mai stato piatto succedono cose a loro nel suo interno non è un libro avventuroso ma succedono cose che ovviamente non vi posso dire perché dovete leggere il libro la maggior parte di chi mi segue ha gli stessi gusti quindi vi posso dire con estrema certezza che dovete prenderlo è un libro che fa veramente al caso di chi come me ama le storie drammatiche le storie stavo per dire una cosa ma vi rovinerei il libro quindi è meglio di no ama un certo genere un certo stile una certa cosa una certa drammaticità ma anche al tempo stesso politicità nelle parole bello io non so cos'altro dire di più di questo libro se non prendetelo perché veramente è una è una chicca l'autrice è carinissima e ci siamo anche confrontate come ho detto prima appunto tutto verso la fine del libro sì c'è del dolore senz'altro ma c'è anche altro no una forte un'amicizia che nascerà veramente contro ogni aspettativa ma è nascerà una bella amicizia tra tra i due è il mio primo libro da cinque stelle del 2024 spero ovviamente che ce ne saranno altri ma quest'anno vedo che vedo proprio in me stessa l'essere molto è oculata sto attenta sto molto più attenta prima davo cinque stelle è così ecco invece no adesso un libro mi deve veramente dare tanto e non mi deve annoiare quando mi annoio può essere del libro da cinque stelle è bellissimo ma a me no e qui non ci si annoia non non c'è tristezza oddio sarei bugiarda perché comunque sono dei punti veramente tristi ma non è angosciante assolutamente non è è poetico una scrittura veramente se voi poi pensate che l'autrice è veramente molto giovane come caspita affatto cioè a scrivere una un'opera del genere molte volte ci si sofferma sulla parola dolore ma non si possono scrivere libri troppo dolorosi perché dopo si diventa smielati si diventa patetici assolutamente no qui c'è un dolore giusto un dolore creato dall'assenza da ambo le parti delle persone forse più importanti della loro vita da una parte la figlia da una parte un'altra persona ovviamente non vi dico chi perché dovete leggerlo perché altrimenti vi dico tutto il libro e non ha senso e poi comunque vi lascio in descrizione il link del catalogo di affiori perché ha delle storie veramente nel loro catalogo io già l'ho detto io penso che questo questa casa di dice mi manderà a fallimento perché ho già tocchiato diversi titoli penso me ne prenderò uno al mese di quelli che ho che ho assegnato perché sono veramente molto interessanti anche perché le ragazze che che l'ufficio stampa chi per quanto riguarda l'editoria hanno più o meno gli stessi miei gusti siamo sentite ci siamo sentite quindi ecco l'abbia è la mia fine io quella casa dietrice proprio veramente la mia la mia fine comunque nulla il rumore dell'acqua giulia gaveglio per affiori mi raccomando segnate questo titolo per chi come me più o meno ha i stessi gusti e non me ne pentirete io l'ho divorato in due giorni perché comunque volevo sapere vi ripeto come andava a finire perché c'è tanta curiosità quindi ve lo ripeto il rumore dell'acqua e nulla io mi metto a registrare quindi mi vedrete vestita così mi metto a registrare anche la prima parte del wrap up per cui alla prossima ciao